e ciao a tutti ragazzi in questo nuovo video siamo sempre in compagnia di ciarlottina ciao 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 oggi andremo a fare una cubo lucky wars ho detto giusto? si bravo cubo lucky wars sono felice perchè sono riuscito a farne ho sempre sbagliato l'unica volta che lo dico perfetto comunque ragazzi ci vediamo subito in partita ci siamo ci siamo ci siamo signori no no bob no ho sparato 2.000 op no cazzo aiuto 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 aiutatemi io ho bisogno di aiuto aspetta please io non so se sto rompendo il martello di thor e trova gli oggetti inutili oh spada no ahia basta il piccone della luce ho trovato che cazzo io sono morta ma come mi ha fatto a sparare così lontano mi ha sparato lontanissimo ok perfetto oh ma io sono lexus già ma che stronzo l'ho ucciso l'ho ucciso neanche il tempo comunque tieni il piccone tieni allora io ho trovato un busto il busto del demone che ha protection 4 io sono immortale praticamente distruggi il nexus arrivo 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 non ti trovo ahia vai 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 distruggiamo tutto distruggi 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 vai ti prendo attento 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 no dimmi che ce l'hai fatta manca un blocco si 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 grande grandissima perfetto ok ok ho anche il loro anche il loro diamante diamante si quindi possiamo farci qualche ho trovato dell'ossidiana 16 di ossidiana ho trovato perfetto perfetto posizionali in modo da da stare un po' più al sicuro ok fantastico allora ho un po' di ho un bel po' di vi faccio i cappellini ok ho un'altra enderpar comunque e io ne ho 3 ok aspetta un attimo che mi sono bloccato qui nella nostra isola non so come ok arrivo andiamo loro hanno messo un po' di ossidiana quindi dobbiamo stare un po' attenti ok 11 fireball usale usale dopo aspetta aspetta prima non diamo troppo nell'oschio oh di qua c'è un punto in cui si entra vieni vieni corri ho preso fuoco eh c'è questo tipo qua aspetta cerco di ucciderlo lo sto uccidendo lo sto uccidendo lo sto uccidendo ok vai vai possiamo ancora spaccare no no lui c'è dietro lui lo ammazza aspetta ok ok ucciso vai 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 manca qualche blocco l'ultimo ok perfetto andiamo subito dai gialli andiamo subito dai gialli da che lato sono aspetta non li vedo eccoli aspetta gli lancio un po' di di distratto vai di tutto ok ok ah cazzo te la devo dare prima di ah no tanto son morta penso un po' cavolo avevo preso la mela d'oro nooo aspetta ma guarda morire se vuoi torno un attimo da te anche torno in base oh ender pair no non sai cosa è successo cosa è successo ah è stato lo spider giochi eh ho rotto un altro blocco e ho dato l'ender pair il problema è che lo spider giochi mi ha dato una freccia dal mente potente ne ho fatto finire i fuori di lì se non l'ho potuto prendere e non l'ho potuto prendere il render per dopo che è esploso tutto si ok allora ah è un blocco in diamante cosa dobbiamo farci? ehm fatti un'armatura migliore tipo hai altro altra osidiana? no oh guarda che c'è qua dentro ok mi sono fatto un'armatura migliore dai che ci mancano sole gialli non possiamo perderla esatto vediamo un pochettino allora tante no perchè guarda in questa ciasca sta no aspetta aspetta l'aiuto vai 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 non capisco un cacchio io perchè sono mezzo drogato ma ok oh allora oh l'arco di te trasporto no l'antimateria l'antimateria che fa... no mi ha preso mi ha preso ecco hai preso l'arco però? si l'arco l'ho preso ok ok andiamo dai verdi andiamo dal lato dei verdi perfetto aspetta un attimo non usare l'arco usa l'ender per se ce l'hai no non ce l'ho ah ok perfetto va bene usa l'arco ok arrivo ma mi sa che con l'arco puoi te trasportarti direttamente dai gialli eh ormai l'ho usato il problema è che eh te le trasportati sulla casa io mi te le trasporto giù così li distraggo ok vai perfetto sono sopra ok ci siamo ok tu tu rompi tutto che io lo sto distraendo ok perfetto ok vado per che cacchio sei il loro coso? eh io sono morta non farti scoprire stai shiftato io torno ok vabbè mi raccomando non farti sgamare mi sto distruggendo piano piano un attimo qua l'ossidiano bravo piano piano non farti sgamare esatto mi sono shiftato aiuto e se lo fai bene loro non ti riescono nemmeno a beccare forse esatto ma se poi mi bando dentro il loro coso così devono spaccare l'ossidiana prima eh si puoi farlo io lo faccio chiuditi dentro così eh si fai quello che sto cercando di fare oh cazzo ma l'ho scoperto ah l'ho scoperto? si l'ho ucciso ok l'hai ucciso? si ok vai vai chiuditi dentro il più possibile eh non posso non ce la faccio in tempo mi sto distruggendo il più quello che posso distruggi tutto distruggi eh mi ha ucciso allora eh però aspetta non ho quattro di ossidiana io eh possiamo utilizzarli per noi oppure per bardarci esatto allora li direi sarebbe andare di noi in due così tu li distrai sempre eh aspetta mi sono un attimo finita le enderpearl eh infatti sto cercando anch'io dai enderpearl dai enderpearl serve anche una melopi in realtà mi servirebbe eh si infatti aspetta mi sto facendo perdere tempo Charlie vai vai sto tornando ho trovato altre enderpearl sto tornando no cazzo ho fatto la cazzata ho fatto la cazzata aspetta tornando ci sto provando almeno ok si sono sull'isola dei Verdi sono quasi arrivata mi sono barricato dentro di loro quando sono accorti aspetta Charlie si nel loro nucleo io li vado a distrarre allora li vado a distrarre si si distrari distrari sono qua sono qua ehi ehi amico ehi colpiscimi amico ehi ehi amico ehi colpiscimi amico ehi ehi amico colpiscimi nooo sono caduta tranquillo tu distrai non si sono accorti sono qua ok aspetta mi posso rompere il legno del nexus si si non ce ne accorgono devi cercare di bardarti il più possibile lì dentro è quello che sto cercando di fare è shiftatissimo sono shiftatissimo sto andando da sotto oh mi sa che stanno arrivando da sopra però attento ma che cacchio becco sempre quest'unico buco tu fai perdere tempo Charlie ho una mela OP ho una mela Powa io io con questa mela posso fargli perdere un sacco di tempo vai 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 fai perdere tempo Charlie e devo riuscire a raggiungere perchè sto avendo diversi problemi con il raggiungere l'isola che c'è un buco enorme che non riesco con l'henderpearl non riesco eccolo sta arrivando da noi questo ok aspetta Charlie aspetta che qui basti su questo blocco e sono dentro il loro nexus ok vai 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 ok sono dentro aspetta aspetta mi sto distruggendo tutto il nexus vai 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 grande grande io lo spiego vai 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 non ho mangiato la mela d'oro non ho mangiato la mela d'oro che stupida sto tornando ci sto provando a tornare sì 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 ce l'abbiamo fatta che squadra che squadra signori che partita abbiamo fatto una tattica bellissima hashtag che partita quindi ragazzi questa partita finisce qui spero tantissimo vi sia piaciuta secondo me è una delle migliori che abbiamo mai fatto su questo minigames perchè è stata veramente bellissima abbiamo usato una tattica bellissima grande team signori grande team quindi ragazzi vi invito a lasciare un pocino in su se questo video vi è piaciuto di passare cani di charlie che è sotto in descrizione noi ci diamo al prossimo video ciao a tutti ciao